è così buona che d'estate non può assolutamente mancare super cremosa e buona, oggi prepariamo la crema caffè all'acqua, dai iniziamo iniziamo partendo dall'acqua che deve essere molto fredda quindi tenetela per almeno 10 minuti in freezer la verseremo all'interno di una ciotola insieme allo zucchero semolato e al caffè solubile la quantità di zucchero e caffè può variare in base ai vostri gusti iniziamo quindi a lavorare con le fruste elettriche e continuiamo in questo modo aumentando gradualmente la velocità delle fruste fino a quando avremo ottenuto una crema ben soda e montata proprio così dovrete ottenere una crema ben montata, compatta e che non cola aiutandoci con una sac à poche versiamo la crema caffè nelle nostre coppe e non ci resta che terminare con del cacao amare in polvere ed è quella qui pronta, semplice e davvero buonissima, da provare!